Mi sono sempre chiesto da quale parte stavo Chi aveva un buon motivo tra il soldato e il rivoluzionario Se si può scagliare la prima pietra avendo commesso peccato Mi sono sempre chiesto che a fine avesse fatto L'anarchico affacciato alla finestra e poi precipitato Ma io leggermente spintonato Chi ha messo quelle bombe se si sente rincuorato Nel vedere un suo simile dal tritolo eliminato Se si rende conto di ciò che han provocato Frendo d'ondici dicembre Non sarai dimenticato Sesi sono un uomo che ti ha ricordato La 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 Oh, oh, oh